Mancano appena 4 mesi all'inizio di Expo, un evento fondamentale non solo per Milano che ospiterà la grande esposizione universale ma anche per tutta l'Italia, Meridione compreso, che da questo evento si augura di recuperare nuova linfa per migliorare un'immagine che, a dire la verità, gli stessi preparativi di Expo hanno contribuito a fuscare. Ed è stato proprio il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, in regione Lombardia, a definire paradossale l'impossibilità di obbligare i paesi esteri che parteciperanno all'evento a sottoporsi a controlli antimafia, quindi sull'evento più in generale. Io sono soddisfatto soprattutto del lavoro che stiamo facendo ad Expo, che è un lavoro che è nato ovviamente in un momento anche emergenziale con tanti problemi. Noi abbiamo messo a punto un sistema di controlli che credo sta funzionando abbastanza bene, abbiamo avuto una grande collaborazione da parte di Expo, stiamo rispettando tempi senza far perdere assolutamente tempo alla stazione appaltante e direi che sono più ottimista sulla possibilità che si riesca a fare Expo e si riesca a fare nel modo più pulito possibile. Presente all'incontro anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che rimane invece ottimista sull'esito finale della manifestazione. Voglio solo ricordare rispetto ai ritardi che Shanghai, a quattro mesi dall'Expo che c'è stato a Shanghai, era molto molto indietro rispetto a quanto è oggi l'Italia e quanto è oggi Milano. Chiaramente è un'opportunità, se non capiamo, che i grandi temi di Expo saranno e porranno Milano e l'Italia al centro del dibattito mondiale e quindi Milano diventerà sempre più internazionale. Ci sono grandi prospettive, non solo di ulteriore turismo, ma di aziende che aprono, di lavoratori che potranno essere assunti. Non si comprende invece come questa grande sfida deve essere vinta da tutto il Paese e non solo da alcuni.